direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto prima di procedere con l'estrazione vi ricordo la nuova iniziativa di super enalotto superstar un'estate a mille convalidando una giocata super enalotto con superstar valida per almeno uno dei concorsi del 25 27 28 e 29 giugno troverete sulla ricevuta di gioco i codici alfanumerici per partecipare alle estrazioni straordinarie che mettono in 250 premi da 10 mila euro ciascuno per ogni estrazione per un totale di 10 milioni di euro ed ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot oggi sabato 8 giugno 32 milioni 666 mila 353 euro 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo al via l'estrazione del concorso numero 91 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero 6 siamo al secondo numero con super analotto si inizia già a vincere secondo numero estratto è il numero 59 terzo numero sta arrivando terzo numero estratto è il numero 79 pronti per il quarto numero quarto numero estratto è il numero 14 e adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite quinto numero estratto è il numero 8 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sostina vincente il sesto numero estratto è il numero 15 dopo questi numeri che assegnano al jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sostina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 66 controlliamo insieme la sostina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 6 59 79 14 8 15 numero jolly 66 e ora passiamo al numero superstar 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 è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite su per una lotta fino a 100 volte premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? numero superstar di questa sera è il numero 2 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 91 con la sestina vincente in ordine crescente 6 8 14 15 59 79 numero jolly 66 superstar 2 l'estrazione di oggi sabato 8 giugno termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 32 milioni 600 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 91 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super nalotto assegna 519 mila 226 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 32 milioni 600 mila euro sarà stato centrato il 6 questa sera il 6 di super nalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 33 milioni 500 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 6 e vincono 31 mila 992 euro ciascuno i 4 sono 962 e vincono 241 euro ciascuno i 3 sono 32 mila 670 e vincono 19 euro ciascuno i 2 sono 445 mila 932 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 229 mila 65 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella nessun 5 stella i 4 stella sono 2 e vincono 24 mila 165 euro ciascuno i 3 stella sono 177 e vincono 1914 euro ciascuno 100 euro va nei 2297 due stella 10 euro e 12 mila 714 uno stella e 5 euro 24 mila 466 zero stella inoltre 108 vincite da 50 euro ciascuna e 16 mila 348 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app supernalotto verifica vincite l'app è disponibile per tutti gli smartphone per maggiori informazioni consultate il sito supernalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi supernalotto vi dà appuntamento a martedì 11 giugno e giocheremo per un jackpot di 33 milioni 500 mila euro arrivederci grazie